Salve a tutti carini iconisti e ben ritrovati ancora una volta sul canale. Oggi voglio parlarvi di questo obiettivo, il Nikkor AFS 300mm F4 PFEDN con diaframma elettromeccanico e stabilizzatore d'immagine VR. La primissima e secondo me più interessante caratteristica di questo obiettivo è il fatto che si tratta di un 300mm luminoso, perché è un F4 e pesa solo 768 grammi, quindi veramente niente. Considerate che le sue dimensioni sono praticamente le stesse di un 24-70mm F2.8, però pesa meno. Quindi veramente incredibile, potete metterlo nello zaino e quasi dimenticarvene perché, sì, non è piccolissimo come dimensione, comunque ha una certa lunghezza, quindi occupa dello spazio nello zaino, però molto molto meno rispetto a un qualsiasi altro 300mm e comunque il suo peso è a dir poco trascurabile. Stiamo parlando davvero di meno di 800 grammi per un 300mm F4, non so se ci rendiamo conto un po' della cosa. Secondo me è una caratteristica straordinaria. Qual è il segreto di questo obiettivo? Beh, lo sappiamo tutti qual è. E' questo PF scritto qua. Indica la presenza di una lente di Frenzel all'interno dello schema ottico di questo obiettivo, tipo di lente che permette di realizzare ottiche molto più compatte e soprattutto estremamente leggere, pur non sacrificando la qualità. Io ho sentito parlare, tra virgolette, male dello sfocato di questo obiettivo. C'è chi dice che non è bello. A me piace un sacco. Inoltre il suo diaframma ha nove lamelle e quindi anche chiudendo il diaframma rimane bello rotondo e lo sfocato non diventa brutto da vedere. Quindi secondo me è promosso anche come sfocato. Poi ditemelo voi, adesso vi faccio vedere qualche immagine in sovraimpressione. Costruzione meccanica. Se avete posseduto o almeno visto un 300mm F4AF di prima generazione, beh, potete considerare quell'oggetto come arma impropria perché è veramente granitico, è fatto tutto di metallo in un modo veramente pazzesco e tanti quando ce l'avevo mi chiedevano ma di cosa è fatto quell'obiettivo lì? Eh, è fatto di piombe, è fatto di robe pesanti, anche se in realtà non era pesante, era di alluminio. Questo qui invece è fatto di plastica o meglio un tecnopolimero, quindi tutto il barilotto è fatto di questo tecnopolimero. Poi sicuramente dentro ci sono delle parti in lega, perché non ci credo che sia fatto tutto così. Nikon dichiara che questa plastica è estremamente resistente, praticamente al pari di una lega di magnesio, però con un peso molto inferiore e soprattutto senza problemi di dilatazione termica col variare della temperatura. Quindi che faccia caldo, che faccia freddo, questa plastica rimane sempre della stessa misura e questo ovviamente è una cosa positivissima in un obiettivo e quindi per garantire le prestazioni ottiche in qualsiasi condizione climatica. Tenuto in mano è molto leggero, ma scricchioli non esistono, dà comunque l'idea di essere solido e dà l'idea di avere in mano un obiettivo di alto livello, cioè non dà proprio mai la sensazione di essere un oggetto economico, anche perché effettivamente non lo è economico. La lente frontale è da 77 mm, per cui possiamo utilizzare filtri comunemente in commercio senza misure particolari, quindi facili da trovare. Anche un polarizzatore si può utilizzare senza troppi problemi, cosa che come ben sapete su obiettivi 300 mm, magari f2.8, non è così semplice, bisogna metterlo nel cassettino eccetera. Questo qui non ha il cassettino e questa cosa, il fatto di non avere il cassettino come aveva per esempio il 300 F4 AF prima versione e forse anche la seconda versione se non sbaglio aveva il cassettino qui, il fatto di non averlo è garanzia di resistenza alle intemperie. Questo obiettivo qui è completamente tropicalizzato, potete usarlo sotto la pioggia battente senza nessun problema. Solito tour dell'obiettivo, ghiera gommata per il fuoco, ovviamente c'è solo il fuoco, su questo obiettivo non c'è lo zoom perché è un obiettivo fisso. Finestrella con le distanze di fuoco, poi abbiamo qui sotto una serie di tasti di interruttori, partendo dall'alto il classico autofocus manual focus, quindi possiamo metterlo qui e la macchina lavora in autofocus, però volendo possiamo comunque girare la ghiera di fuoco a mano. MA che fa esattamente il contrario, dà priorità alla messa a fuoco manuale, ma può funzionare in messa a fuoco automatica, oppure in manuale, quindi disattiviamo il motore autofocus. L'autofocus di questo obiettivo è semplicemente pazzesco, velocissimo in ogni condizione, è più veloce rispetto al mio 70-200 2.8 seconda versione, direi che al pari se non addirittura superiore al 70-200 FL, quindi l'ultima versione per Nikon F, è veramente veloce, è impressionante, cioè tu premi e dici vabbè è già a fuoco, ma com'è possibile? È pazzesco, cioè questo obiettivo qui non vi canna una foto nello sport, se sbagliate è colpa vostra sinceramente, perché lui è veramente velocissimo. Possiamo limitargli la corsa dell'autofocus per velocizzare ancora la messa a fuoco, e vabbè è già veloce abbastanza secondo me, non so neanche quanto serva, credo di non averla mai utilizzata questa ghiera, perché la F è veramente impeccabile. Qui sotto troviamo la levettina invece per attivare e disattivare il VR, quindi lo stabilizzatore ottico di cui è dotato, stabilizzatore che funziona praticamente da dio, è veramente uno stabilizzatore eccezionale, io riesco a scattare a mano a 300 mm con tempi relativamente lenti, quindi magari un 5 centesimo di secondo, ma anche un 3 centesimo si riesce, con una sola mano sulla macchina è lo stabilizzatore acceso e la macchina ti fa le foto perfettamente ferme, una stabilizzazione davvero ottima, è chiaro che si può scattare anche con tempi più lenti, però in quel caso lì è meglio mettere una mano anche sull'obiettivo. Si riesce a scattare con una sola mano con questo obiettivo perché è veramente leggero, è leggerissimo, quindi con una sola mano si riesce a essere comunque fermi, pazzesco. Ha due modalità, la normal e la sport, la sport chiaramente è ottimizzata per lo sport, la normal per tutte le altre situazioni, quindi la sport vi aiuta di più per esempio nel panning. Dietro troviamo tutte queste scritte che ci indicano il tipo di motore, che è un motore svm, quindi silent wave motor, ha lo stabilizzatore, ha le lenti di Frenzel, ha lenti a bassa dispersione e bassissima dispersione, è internal focus, la lente frontale è da 77 mm, ha il trattamento nano crystal coating, quindi anche in controluce veramente va alla grande, è fatto in Cina. Sì, è fatto in Cina, ma l'obiettivo è veramente eccezionale, per cui io ve lo straconsiglio indipendentemente da dove sia costruito, chi se ne frega, è fatto davvero bene. Qui troviamo una zona che serve per agganciare il collare per attaccarlo a tre piedi, io non l'ho neanche comprato perché è veramente leggero e addirittura quando voi lo montate in macchina su tre piedi si riesce a utilizzare senza nessun problema perché è talmente leggero che praticamente non serve. Chiaramente il collare è straconsigliato se ci fate caccia fotografica, se avete una testa bilanciere per esempio e se volete la comodità di avere appunto un anello per ruotare rapidamente da verticale orizzontale, però vi dirò va davvero bene anche senza, chiaramente è più comodo. L'anello, quello per montarlo su tre piedi, è lo stesso identico del 70-200 F4 VR, altro obiettivo secondo me davvero ottimo di cui forse un giorno vi farò la recensione perché ho un amico che lo possiede, però lui sta in Inghilterra quindi non so se lo porterà in Italia, se lo porta vi faccio la recensione anche di quello. Vi ho parlato della lente frontale ma ho dimenticato di dirvi una cosa, questa lente frontale oltre a essere trattata antiriflesso è trattata anche con uno strato in fluorite che permette di pulirlo più agevolmente, quindi si sporca con più difficoltà, fa scivolare più facilmente l'acqua e lo sporco eventuale fango che possa andargli sulla lente frontale, inoltre ne aumenta la resistenza alle abrasioni per cui sarà più difficile rigarlo, ovviamente io non ci proverei a rigarlo, però teoricamente dovrebbe essere anche più resistente all'abrasione. Sull'altro lato troviamo la baionetta che è rigorosamente in metallo, la guarnizione che lo rende a prova di acqua, i contatti per autofocus e tutto quanto, non troviamo però la levetta per chiudere il diaframma perché questo obiettivo è dotato di sistema elettromeccanico per controllare il diaframma, questo permette una migliore precisione delle esposizioni perché è più veloce a chiudersi, quindi è più precisa l'esposizione poi della fotografia finale ed è più costante la luminosità dell'obiettivo in raffiche, quindi tutta la raffica avrà la stessa esposizione, di contro chiaramente non potrà essere utilizzato sulle macchine che non supportano i diaframmi elettromeccanici, quelli indicati dalla lettera E. Dove troviamo l'indicazione di questa E? Beh, la troviamo dopo l'apertura diaframma di questo obiettivo qua sulla targhetta, vedete che c'è questa E. Il paraluce è in plastica, si tratta di un'ottima plastica però non abbiamo il tastino di sblocco e di quelli ad incastro semplice, soluzione che non mi piace tantissimo, però non è un paraluce di tipo a petalo e questo lo rende davvero comodo per metterlo in piedi in verticale con la certezza che non cada, chiaramente con una macchina molto pesante come una D5, una D6 non lo metterei in piedi sull'obiettivo perché comunque il corpo potrebbe sbilanciare un po' e far cadere, però insomma è abbastanza stabile quindi anche per quel tipo di utilizzo di situazione lì non è affatto male. E' molto efficace per quello che deve fare, insomma come paraluce, per cui niente da lamentarsi su questo paraluce che ovviamente si può montare anche al contrario e occupare meno spazio quando lo si trasporta, come avviene con praticamente tutti gli obiettivi o quasi. Non vi ho parlato più di tanto della qualità di questo obiettivo perché c'è davvero poco da dire, veramente ottima qualità di immagine già a f4, ha un minimo di vignettatura a f4 ma poi diminuisce subito agli antidiaframmi, comunque non è tanta quindi già a f4 è utilizzabilissimo con poca vignettatura. Vi ho già detto che l'autofocus è pazzesco, lo stabilizzatore funziona in maniera incredibilmente efficace, le sue dimensioni e peso sono da record, un obiettivo secondo me da avere se cercate un 300 mm. E' possibile usarlo anche con dei moltiplicatori di focale, io vi sconsiglio di andare oltre l'1.4 chiaramente perché poi diventa abbastanza buio, è già un f4, diventa un 5.6 con l'1.4 però teoricamente si può azzardare anche un 1.7 senza troppi problemi, soprattutto con le macchine più recenti, non ci sono problemi di autofocus però io vi dico state sull'1.4 se volete moltiplicarlo. Pregi e difetti, allora sicuramente pregi ne ha tantissimi perché tutto quello che ha funziona incredibilmente bene, dà il sistema davanti antisporcamento diciamo della lente frontale alla fluorite, all'antiriflesso, l'autofocus, lo stabilizzatore, insomma funziona tutto bene, quindi davvero poco da dire. E' ben costruito nonostante sia fatto di plastica, questo tecnopolimero a detta di Nikon veramente molto solido ma vi dico anche proprio toccandolo si capisce che è fatto bene e quindi direi che pregi, boh, sono tutti, tutte le caratteristiche che ha sono un suo pregio. Difetti? Beh, l'unico difetto che riesco a trovargli è il fatto che a volte quando sei in giro con questo coso qui la gente ti chiede di fargli una foto ed è difficile spiegargli che questa cosa qui è un 300 mm e che quindi dovranno andare un po' lontani. Un po' lontani ma quanto? Ma neanche tanto perché questo obiettivo qui metta a fuoco una distanza minima di 1,4 metri, veramente incredibile, si va non dico in macro ma si possono fare addirittura dei close up con questo obiettivo perché si può essere davvero molto vicino al nostro soggetto, cosa secondo me interessantissima e molto utile perché comunque non ci limita a focheggiare lontano ma possiamo focheggiare anche molto vicino con il nostro bel 300 mm. A chi consiglio questo obiettivo e a chi invece lo sconsiglio? Lo consiglio sicuramente a chi ha bisogno di un 300 mm e sa già che non ha bisogno sempre di un f2.8, che sì l'f2.8 è più moltiplicabile diciamo perché anche con un 2x comunque resta luminoso, il f2.8 è bellissimo perché un f2.8 Nikon, Canon, comunque delle marche top è sempre una sicurezza e una garanzia di qualità estrema, lo sfocato è ancora migliore perché sono obiettivi a lenti e non con le lente di fresner, quindi insomma il 302.8 è bellissimo, però questo qui a differenza del 302.8 ve lo portate dietro con molta più voglia di fare perché pesa meno di 800 grammi, quindi lo mettete nello zaino, anche se quel giorno lì non lo usate, non vi siete trascinati 3 kg di roba e poi dite ah cavoli potevo lasciarla a casa non l'ho mai usato, invece questo qui te lo porti dietro e se serve ce l'hai dietro. Lo consiglio anche a chi vuole girare per una città e cercare qualcosa di particolare perché è vero che la street si fa con gli obiettivi corti ma noi non ce ne frega niente delle regole, possiamo girare per una città con un 300 e trovare degli scorci, trovare delle silhouette, trovare delle situazioni un po' particolari, trovare modi di fotografare anche l'architettura, le cose un po' strane, un po' diverse dal solito quindi lo consiglio anche a quel genere di persona lì, non lo consiglio a chi pensa che un 300 sia un obiettivo molto lungo che va bene per fotografare qualsiasi tipo di animale perché 300 mm non sono tantissimi, è vero che potete comprare anche un 1.4 e arrivare a 420 mm ma non sono così tanti, comunque per chi vuole approcciarsi alla fotografia naturalistica con animali che è abbastanza facile da avvicinare o comunque chi ha una macchina magari non full frame ma PSC, questo obiettivo qui è assolutamente indicato anche quel tipo di fotografia lì. E poi chiaramente ve lo consiglio per lo sport perché nello sport soprattutto all'aperto f4 va benissimo e bisogna avere obiettivi secondo me pratici e leggeri perché fare un panning con questo obiettivo è molto più semplice che farlo con un obiettivo pesante, non richiede di portare tre piedi, non richiede teste per fare inseguimenti insomma permette un utilizzo molto più veloce, molto più agevolo e assolutamente adatto allo sport. Per esempio nel calcio è molto veloce ma anche nei rally o ciclismo o qualsiasi altro sport che vi viene in mente praticato all'aperto, tennis che è molto veloce quindi anche lì molto utile questo obiettivo qui leggero e che non ha diciamo inerzia quando lo sport è spostate e in un attimo cambiate direzione e riuscite a seguire l'azione e quindi secondo me per lo sport è veramente l'ideale, è proprio forse un obiettivo che nasce più per lo sport che per gli altri ambiti anche se comunque va bene praticamente per tutte le cose in cui serve un 300 millimetri. Come si comporta questo obiettivo rispetto agli vari zoomoni che ne so sigma 150-600, tamron sempre 150-600-500 quello che sono? Beh questo qui è un altro mondo ragazzi, questo è un'altra cosa, velocità incredibilmente superiore, stabilizzatore nettamente superiore, qualità di immagine non è neanche lontanamente paragonabile, questo qui è un obiettivo professionale, quelle robe là sono giocattoli costosi e estremamente pesanti, questo qui non ti penti di portartelo dietro anche a 3000 metri in montagna, quelle robe là ti fanno pentire anche di essere nato quando te lo porti dietro, soprattutto il Sigma Sport che pesa più o meno come una porta aerei, questo qui pesa come non lo so, come niente, pesa meno di un 24-70. Grazie a tutti per aver visto il video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, iscrivervi a Patreon se vi va e grazie a tutti per la visione e arrivederci alla prossima.